Flavia Pennetta non si ferma più. Dopo la splendida semifinale agli US Open del settembre scorso, la 31enne azzurra è sempre protagonista in un torneo dello Slam. Quarti agli Australian Open, dove non era mai andata prima oltre gli ottavi, e negli ultimi tre major ha sempre raggiunto almeno gli ottavi. La brindisina, testa di serie numero 28, ha battuto sulla Rodlaver Arena la tedesca Angelique Kerber, favorita numero 9. Un match durissimo, durato un'ora e 52 minuti. 6-1, 4-6, 7-5 per l'italiana. La Pennetta ha giocato un primo set fantastico, dominandolo, ha ceduto il secondo e nel terzo è andata sotto di 2-1, ma è stata lucida nel recuperare immediatamente il break di svantaggio, mettendo a segno un parziale di 8 punti a 1 per poi chiudere 7-5. Niente quarti di finale agli Open d'Australia invece per Fabio Fognini, al quale non è riuscita l'impresa compiuta poche ore prima dalla Pennetta, ma il compito era davvero proibitivo. Il 26enne Ligure, con il numero 16 primo azzurro del tennis mondiale, è stato bloccato, secondo pronostico, da Novak Djokovic, numero 2 del ranking, campione in carica e quattro volte vincitore a Melbourne. Il serbo ha battuto Fognini per 6-3, 6-0, 6-2 in un match di un'ora e 33 minuti che non ha avuto storia.